Salve, benvenuta nel mio negozio. È la prima volta? Bene. E cosa la porta qui? Io sono lieta che ne abbia sentito parlare. E mi dica delle palettes. E le volle piccoline, un po' più grosse? Ok, più grosse. Ok. Va bene. No, ma dopo se le serve altro mi dirà dopo. Ok. Allora, noi in guardia abbiamo una politica un po' speciale con la clientela e vogliamo che la clientela sia rilassata e comoda durante l'acquisto. Quindi adesso andiamo un attimo, vedi lì, e si siede sulla poltrona e le faccio vedere varie cose, ok? Perfetto. Allora andiamo. Prego. Ok, prego. Si mette pure comoda, in una posizione comoda. Ok. Allora, quindi lei mi ha detto che vorrebbe prima vedere un po' di palettes, ok? Ok. E pensavo a palettes, solo ombretti o anche qualcosa di multifunzionale. Va bene. Qualcosa comunque con un bel po' di roba. Va bene. Ok. Allora. Allora, prima di tutto le faccio vedere una, diciamo, una piccola trousse di... 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 di Sorosce. Allora, questa qui è molto carina, è molto particolare. Adesso le faccio vedere anche il perché. Allora, se andiamo ad aprire qui, ecco qui, qui, come vede, abbiamo molti molti ombretti. Questo è quello di prova, quindi vede che è un po' sporco, però insomma è il nostro tester. E vede che ha tanti, tanti ombretti, la maggior parte shimmer, anzi tutti i shimmer, alcuni più, alcuni meno. Vede che, ad esempio, questo è molto più brillantinato di questo e così via. Le faccio vedere un attimo la pigmentazione, un secondino. Prendiamo ad esempio questo nude. e le faccio vedere così. Ad esempio questo qui appunto. Allora, quindi sono colori, diciamo, mediamente pigmentati, quindi ovviamente, vabbè, questi colori qui, il verde, vede, sono molto pigmentati, ma è normale, perché insomma questi colori sono molto accesi, questo tipo di colore. E vede che questo può lasciare veramente spazio alla sua fantasia. Perché ha veramente tanti, tanti colori. Andando ad aprire, vediamo già la sua multifunzionalità, infatti qui abbiamo anche dei lip gloss, vede, e dei blush. qui, qui, e un'altra, diciamo, la cosa particolare che rende molto, molto, molto originale questa, questa piccola trousse. e gliela faccio vedere subito. Ecco qui, gliela apro. Ecco qui. Vede? Questa, questa, questa parte, è questa qui mancante, come vede, è un'idea molto carina e, appunto, grazie a questa funzione si può portare anche in giro, si può portare in borsetta e si porta, diciamo, gli ombretti del giorno e il blush e il lip gloss del giorno comodamente e, appunto, può comporla in base ai giorni. Ed, appunto, gliela ho mostrata perché è molto, insomma, l'unica è molto, molto, molto carina. Ok. Andiamo avanti. Adesso. Adesso le volevo mostrare delle palette che non troverà, le assicuro, da nessun'altra parte. Questo perché ne facciamo l'ordine direttamente dagli Stati Uniti ed è una marca che io amo personalmente e si chiama BH Cosmetics BH Cosmetics e le faccio vedere le palette che vendiamo di più. Allora, la prima è questa. Come vedi, si chiama Illuminate by Ashley Tisdale ed è, non so se lei fosse una fan della Disney, ma è una famosa attrice una famosa attrice Disney. E, come puoi vedere qui, ha del packaging molto carino semplice in cartone infatti queste sono molto economiche anche grazie al loro packaging bello, ma diciamo non in latta o in velluto o cose così. Sono packaging molto semplici in cartone ma che hanno il loro effetto e che io apprezzo tanto. E su tutta questa linea visto che è una linea diciamo così vecchia da rinnovare ci deve ancora arrivare la nuova collezione abbiamo uno sconto del 40% e già si fidi che sono molto molto economiche. Allora, andiamo ad aprire questo ovviamente le ricordo che è il tester quindi ecco è un po' sporco. allora come vede questa è è composta da un blush un illuminante e una terra e poi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove ombretti sono tutti shimmer però questi diciamo che sono molto più brillantinati invece questi sono solo diciamo satinati e le faccio vedere ad esempio il illuminante guardi che meraviglia molto 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 bello e i colori di questa palette sono estremamente veramente pigmentati e si adattano ovviamente perfettamente fra di loro e permettono un look veramente luminoso assolutamente sì infatti vede ed è molto comoda anche da portare in vacanza anche questa in borsetta perché appunto terra illuminante blush e ombretti quindi molto 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 comoda sì vede ci sono anche i nomi ok ho altre due palette da mostrarle che che stanno andando veramente a ruba appunto con con questo sconto incredibile che stanno avendo molto molto successo sì senta c'è c'è un vento incredibile fuori senta allora qui ho una palette che si chiama wild and alluring allora beige shadow and highlighter palette queste sia diciamo ombretti cotti che appunto alcuni possono essere usati anche come illuminante perché adesso le faccio vedere sono molto 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 shimmer questi colori io le sto suggerendo questi perché sto vedendo il suo trucco essendo appunto il suo trucco molto luminoso ho pensato potessero piacere il packaging molto bello sì sento si è messo anche a piovere c'è l'ombrello sì ok se no glielo lo davamo lui ecco allora stavo dicendo guardi il packaging molto carino e andando ad aprire troviamo questa meravigliosa palette sono tutti i colori molto vivaci molto accesi e veramente danno una luminosità incredibile glielo assicuro questa marca è famosa per essere proprio avere dei colori iperpigmentati le faccio vedere ad esempio l'illuminante guardi qui che meraviglia che meraviglia allora come vede qui non si faccia ingannare dai colori le faccio su un esempio questo vede sembra bianco e rosa ma in realtà è un rosa molto inciso questo qui vede invece è già molto più portabile anche da solo ecco vede non si faccia ingannare alcuni sono molto brillanti e proprio danno luminosità altri invece hanno proprio un colore molto forte si si vede sono colori incredibili guardi qui è bellissima come ombretto e come illuminante e quindi questi sono i colori vi faccio vedere anche ad esempio questo un bellissimo verde molto 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 brillante e questo che sembra quasi oro veramente bella qui abbiamo il blush e appunto è comodo da portare in borsa magari questi colori sono diciamo un po' più desperte perché già sono colori forse abbastanza forti alcuni però le assicuro che sono veramente toni particolari e noi ordiniamo questa marca perché difficilmente riuscirà a trovare dei colori così pigmentati e accesi in altre marche che si vendono qui in Italia è più diciamo adesso una prerogativa che va negli Stati Uniti sono sicura che pian piano arriverà anche in Italia però a noi piacciono tantissimo c'è guardi qui mamma mia l'ultima palette che volevo farle vedere è invece solo di ombretti ed è questa si chiama Supernova allora questo invece sono solo ombretti alcuni sono molto chiari possono essere usati da illuminanti perché l'ho detto due volte non lo so e sì quindi anche questa colori molto particolari molto 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 brillanti come ho capito che le piace sì assomigliano molto ad alcuni ad esempio delle Urban Decay quelli più brillanti ma la qualità le assicuro che è uguale e il prezzo è un quarto un quinto un quarto dai un terzo un quarto veramente convenientissimo poi con lo sconto allora e le faccio vedere qui guardi che meraviglia di colori e sono delle ombrette veramente portabilissimi e qua ci sono già alcuni abbinamenti che si possono fare vede così sono anche questi super super pigmentati molto belli molto luminosi ok certo e li posso provare guardi le metto uno molto luminoso che sta bene anche da sola sulla parpebra mobile poi si si potrà specchiare allora prendiamo il pennello adatto ecco qui allora mi dica lei questo qui ok e questo qui molto molto luminoso vede sta benissimo anche da sto allora prendo e le metto sulla parpebra mobile chiuda bene gli occhi ok sull'altro perfetto perfetto ok si guardi pure bello è l'effetto è veramente stupendo glielo ho detto e le assicuro che questa marca non la troverà da nessun'altra parte se non su internet ovviamente poi ci sono i costi di spedizione i tempi quindi io le consiglio davvero di approfittare dell'occasione le piace il pennello? certo li vendiamo è un set di pennellini tutti così e sono 12 in tutto tutti i pennellini così le piace? buono in questo costa 12 pennelli mi sembra 12 euro sì più o meno un euro pennello ma guardi abbiamo delle fonti molto brave a scopare le offerte e poi sì sono in sconto assolutamente sono in sconto anche questi perché sono la collezione vecchia certo glielo li metto li metto da parte vuole vedere altri pennelli ho sempre di questa marca li faccio vedere allora guardi ho questi pennelli qui guardi che meraviglia la confezione è molto bella ha due bottoncini andiamo ad aprire l'apro sempre dalla parte sbagliata e qui abbiamo i pennelli vede molto belli questo colore è beige chiaro veramente elegantissimi guardi ci sono quelli per occhi profondo profondo si si e prendo anche questi ma guardi fa bene perché sono veramente belli sono proprio belli si 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 allora richiudo e con se prende almeno due prodotti sono sempre della biacca e se prende almeno due prodotti della biacca in regalo abbiamo la pochettina molto carina semplice ma carina voleva vedere altro ok ok allora vediamo allora blush guardi blush ecco sempre di questa marca posso avere questa palette guardi semplicissima ma guardi che meraviglia ti piace questa viene sui 3,50 euro no sono una cavolata veramente lo so lo prende guardi già con i pennelli e questi e puoi prendere gli diamo in omaggio la la borsettina ma prendi anche le palette quale? ok quelle due perfetto guardi le adoro le adoro le adoro le a casa tutte io perché sono veramente belle ok mi diceva poi un burro cacao guardi allora io ho un debole per questi qui allora questi qui sono tutti dei burro cacao sono tutti i colori che abbiamo qui io sono un burro cacao della tepora sono io ne faccio vedere uno faccio vedere quello trasparente ad esempio io sono vede io sono con azione rimpolpante è un balsamo labbra le assicuro l'azione rimpolpante si sente tanto io le consiglio anche di metterli la sera e non toglierlo quando si strucca perché questo ha un effetto veramente incredibile sulle labbra la mattina si sveglierà con le labbra veramente le sentirà super idratate e super morbide e super rimpolpate posso avere questo e posso avere anche leggermente colorati se vuole molto bello no no guardi ah no comunque costicchiano perché costano mi sembra 4 euro però le assicuro che sono i balsami i balsamo labbra migliore che abbia mai 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 provato si si assolutamente ok prende quello colorato le faccio vedere anche lì più scuro più scuri le faccio vedere questi colori no poi sulle labbra sono molto comunque delicati le piace questo va bene allora il numero 25 guardi io le assicuro che appena lo finirà appena lo finirà proprio le dico appena o appena lo proverà verrà comprare altre magari quello trasparente o altri colori perché le assicuro è il migliore è il migliore ok cercava altro no posto così va bene allora andiamo un attimino alla cassa e le faccio anche il sacchettino ok perfetto allora andiamo ok allora eccoci tornati qui io le do la sua busta con tutte le cose e in tutto sono 30 euro lo so pochissimo ho bastantissime cose lo so lo so è il nostro forte no sono costruita di qualità le assicuro le lo giuro le uso anche io sulla mia pelle quindi le assicuro che io voglio bene la mia pelle quindi ok grazie a lei lo scontrino e la ringrazio di essere di essere stata in compagnia con me oggi spero abbia fatto una bella esperienza da questo e che ritorni presto arrivederci arrivederci buona giornata grazie a tutti